Perché questa gatta non riesce a resistere all'impulso di entrare nelle buste della spesa? Ce lo vuoi dire? Cos'è che ti spinge a voler entrare qui dentro? Ancora? Spostati! Via! No! 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 Ah! Tu non vai in frigorifero! E queste? Un po' di vino? Vuoi pistacchi? Ancora? Spostati! Togliti! Via! Togliti! C'è la roba dentro! E' mia la spesa! Sei assurda! Sei una gatta assurda! Basta! Ti togli? Via! 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 Niente! Niente! Dovevi infilarti là! Ma ti rendi conto che fai ridere? Via Ti rendi conto che sei ridicola? Eh Sei ridicola? Cosa stai facendo? Perché? Perché tutto ciò? Facciamo così? Vabbè Contenta te Stai pure lì Ciao 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 Grazie a tutti.